Ciao a tutti, mi trovo a Seafeld in Austria, nel Tirolo, quello è praticamente l'albergo dove alloggio. Molto bello il panorama, qua c'è l'Olimpia Bad Centro Olimpico, guardate quant'è grande. Adesso vi faccio vedere un po' il panorama e vi faccio vedere un po' il centro. Qua non mancano i pozzini grossi. Qua non mancano i pozzini grossi. Qua ci sono anche alberghi a 5 stelle e oltre, proprio a 5 stelle superior. Ho visto Ferrari, Lamborghini, Maserati. Non mancano di certi pezzi grossi qua. Diciamo che questa zona di Seafeld è un po' come la Svizzera dell'Austria. Eccolo qua, un altro pezzo grosso. Adesso mi dirigo verso il centro. C'è un po' come la Svizzera dell'Olimpia, un altro pezzo grosso. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Qua comincia la galleria con i negozi Tra l'altro stasera c'è, anzi stanotte c'è la notte bianca Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.